Hanno scelto la strada del non apparentamento e due candidati sindaci di Roseto, Mario Nunes di Spazio Civico e William Di Marco del centrodestra, che il 17 e il 18 ottobre si affronteranno al ballottaggio. Ufficialmente non ci saranno patti con i candidati usciti sconfitti nel recente turno elettorale. Nunes parte con un bagaglio di 4.305 voti e una percentuale di poco al di sotto del 31%, Di Marco con 3.110 voti e una percentuale di poco superiore al 22%. Entrambi hanno ottenuto più preferenze rispetto alle liste che li hanno sostenuti, ma è chiaro che al ballottaggio i numeri vengono azzerati, si ricomincia da zero a zero. Tuttavia, tenuto conto che degli oltre 14.500 votanti su oltre 22.020 diritto, una buona parte non tornerà alle urne, i due sfidanti potranno contare solo sui propri sostenitori, convincendo poi quella piccola percentuale che tornerà al voto, ma che aveva scelto uno dei candidati sconfitti, ad esprimere la preferenza per se stessi. Nunes conta di avere il sostegno di una parte della sinistra che ha appoggiato Rosaria Ciancaione, della sinistra più moderata che ha sostenuto Sabatino Di Girolamo, rappresentata ad esempio da Enzo Frattari e Franco Di Buonaventura e dei moderati in genere. Di Marco potrebbe avere una buona fetta di voti di Tommaso Ginoble. Il voto disgiunto è stato in percentuale molto alto e in tanti hanno scelto il candidato consigliere di una delle liste di Ginoble, votando poi Di Marco sindaco, ed è l'area più moderata che ha sostenuto Sabatino Di Girolamo, con cui lo stesso Di Marco ha sempre avuto un ottimo rapporto. Insomma, apparentamenti non ci saranno, ma accordi sotto traccia potrebbero esserci su entrambi i fronti. Ci sono poi le prime indiscrezioni sulla futura giunta che Nunes avrebbe in mente. Ad esempio, Angelo Marcone, il terzo più votato, potrebbe avere l'assessorato al turismo e politiche giovanili. Egno Pavone punterebbe alla presidenza del Consiglio o alla presidenza della Commissione Urbanistica.